Siamo a Niagara Falls, le cascate del Niagara sono sempre belle, anche quest'oggi, 3 dicembre, una giornata quasi autunnale. Siamo in gita con l'Iloro Cultural Association e questa sera ammireremo il meraviglioso spettacolo del Festival delle Luci. Siamo in gita con l'Iloro Cultural Association. Siamo in gita con l'Iloro Cultural Association. Grazie per la visione! Grazie per la visione!